e' accostando c'è un po' 70 euro e' un po' 2 tera e' un po' 4 tera bai c'è? 4 tera bai ti vuoi un jump? 2 tera? si spende 3 e' un po' più difficile c'ho la mia nuvola e' e' infinita e' un po' più difficile e' un po' più difficile se cazzo in Dubai è dove per 50 anni ce lo sanno a Dubai ce lo sanno a Dubai ce l'avano meglio che se ne avessi come si? ma non si? a Dubai tutta l'atta è arrivata tutti gli sheikhi che hanno fatto si hanno fatto regolare loro e' si che hanno fatto gli sheikhi hanno preso i gommoni c'è la vila c'è la vila di gommoni nell'acqua con la macchina soffa ci mettono la noz c'è la vila di gommoni no c'è uno straordinario c'aveva i zaspali e te lo piccoli e' meraviglioso è top siamo al top c'è la vila di gommoni c'è la vila di gommoni e e